Oggi ci troviamo ad Arce nel Frosinate, assaggiamo Palazzo Tronconi, una meravigliosa azienda biodinamica che oggi si presenta a noi con Doil, un Sauvignon 12 gradi e mezzo del 2019. Assaggiamolo insieme. Una bella limpidezza e una bella presenza nel bicchiere, un bel giallo paglierino pieno, annusiamolo. Profumi floreali, un bel fruttato, portiamolo al palato. Frutta, tanta frutta a polpa gialla, evoluta, molto piacevole, gradevole al palato, avvolgente. Qui abbiamo bisogno di un piatto sicuramente importante, di una buona carne bianca o se vogliamo andare sul pesce, un pesce al forno. Quindi una consistenza e una presenza nel palato importante per accompagnare questo vino.